musica 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 un po' di uova un po' di wuster e un po' di tonno e guarda che roba musica non 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 Grazie Ciao Riccardo, ti lascio un videomessaggio, guarda come sono, riprendi tutto il corpo, ok Riccardo, che errore, hai scassato il culo, ti sei fatto per la seconda serie in seguito una tipa, però una cosa, io sono umbriaco, ho rotto un bicchiere di whisky, ok, e sono andato con Boots e Katz in giro a minchionare di brutto, forse è meglio, e stasera forse mi scoppò anche i Boots, capito, e il mio cibo è questo, gordissimo. Il latte, dobbiamo comprare l'olio, no, un cucchino di latte ci sta benissimo, sei bravo Boots, ti fai vedere in camera, 10, no, dai, c'è già aperto, ci sono i cereali, buonissimo, ciao, lei è morbo, è stata con me 5 giorni, adesso la rompo e la mangio, probabilmente è infetta, perché è stato 5 giorni in giro anche per baci l'altro, però ogni schifezza si è cotta, però, non lo faccio, il cazzo, e qui ci sta benissimo, sono un po' di più, in modo fai, 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 in modo fai lì, è vero, ok, fai, in modo fai, in modo fai lì, che cosa vuoi comprare? ma ti prendi questo che ha spinto ma 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 non ma vogliamo comprare sento scusa sono messo i 17 euro eh non è successo secondo me è buona di brutto ai potessi come mi convince di brutto ancora si mette con il brutto con il zucchero che torna l'acidità torna l'acidità C'è un po' di rum Ma che non lasciate il video messaggio a Regi? Sì, ok Zucchero Che video messaggio l'ha lasciato? Eh, il fatto che è stato il figlio a trovarsi la tipa però è spiegato perchè non si mai... non ha cucinato questa cosa Il rum Un po' di rum Un po' di rum Un po' di rum